Con il Campobasso tornato in Serie C da domani al Via, il campionato di Lega Pro, il palinzesto delle trasmissioni sportive di Telemolise, quest'anno si arricchisce con il ritorno di una trasmissione storica, Rosso-Blu-Gol, ovviamente rinnovate al passo con i tempi, quel tempo che non scalfisce ma rinvigorisce chi la ideò e la condurrà ancora, il direttore della testata giornalistica sportiva di Telemolise, Antonio Di Lallo. Certamente, Rosso-Blu-Gol in contemporanea con le partite del Campobasso, quindi quando gioca il Campobasso c'è anche questa trasmissione che trasmetteremo naturalmente in diretta dagli studi di Campobasso con Luigi, con Gaia e naturalmente con il supporto di tutta la redazione sportiva. Quindi domani sera alle 20.15 collegamenti con ospiti in studio, commenti ed evidentemente anche un giudizio sulla partita che il Campobasso giocherà domani sera alle 20.30 al partenio di Avellino. Ovviamente continuano le altre trasmissioni sportive di Telemolise come sempre ma una novità ci sarà già domenica 12 settembre. Certamente, riprendono nel fine settimana 11, 12 e 13 settembre tutte le nostre trasmissioni, tutta la nostra programmazione, quindi a tutto campo. La domenica pomeriggio a partire dalle ore 15, trasmissione storica domenica sport alle 18 a partire dal 12 settembre e il lunedì Molise a calci. Insomma siamo praticamente tutti pronti noi della redazione sportiva di Telemolise per assicurare e garantire a tutto il pubblico, vastissimo pubblico che devo ringraziare perché insomma mai e poi mai avrei immaginato che lo sport avesse avuto, poi le trasmissioni sportive avesse avuto questo seguito. Però insomma siamo tutti molto carichi per dare il massimo a tutto il nostro vastissimo pubblico. Complimenti e in bocca al lupo. Grazie a te e grazie naturalmente al nostro editore Quintino Pallante, alla direttrice Manuela Petesce, grazie insomma a tutta la struttura, i tecnici e tutti coloro che collaborano perché evidentemente da solo non vai a nessuna parte. Grazie.